salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete questo mese il mese di aprile è un mese davvero di fermento per quanto riguarda i droni perché sta per arrivare l'attesissimo fimi mini che da oggi è disponibile nello store fimi su aliexpress e costa circa 280 euro il prezzo di aliexpress sicuramente è incredibile rispetto a quello di banggood di cui vi ho portato il video qualche giorno fa dove il prezzo secondo me troppo alto per quel drone per essere un drone che non si sa bene come sia e soprattutto per un drone che attualmente pesa più di 250 grammi in attesa che arrivino queste batterie che lo vanno ad alleggerire lo fanno scendere sotto la soglia dei 250 grammi su aliexpress invece il prezzo è davvero molto molto più competitivo perché comunque parliamo di un drone da 280 euro però anche lì per adesso c'è ancora l'handicap della versione con la batteria pesante quindi se lo acquistiamo oggi su aliexpress avremo o meglio ci arriverà la versione che pesa 258 grammi quindi per poterlo utilizzare ci vuole il patentino quindi chi acquista oggi quel drone su aliexpress deve essere consapevole che finché non verranno messe in vendita le batterie alleggerite quel drone non potrà essere utilizzato se non in maniera se vogliamo illegale senza il patentino quindi il prezzo rispetto a banggood è sicuramente molto più appetibile molto più rapportato al marchio alla tipologia di categoria di quel drone però c'è ancora l'handicap della batteria è in questo momento un handicap secondo me abbastanza pesante anche perché si parla che la versione di drone che esce direttamente cioè che lo si acquista direttamente con la batteria alleggerita si parla di giugno quindi manca ancora un po' di tempo prima di poter ordinare la versione con la batteria alleggerita però si può acquistare questa versione e poi in seguito acquistare la batteria alleggerita sempre che abbiate il patentino per poterlo utilizzare in questo momento e poi ragazzi l'altro drone super chiacchierato e super inatteso perché il filmini si sapeva che sarebbe arrivato non si sapeva di preciso quando ma si sapeva è l'aggiornamento di lui il mavic air 2 che non si chiamerà più mavic air 2 ma andrà a perdere il nome mavic come è successo per il mini che da mavic mini è diventato mini 2 perdendo il nome mavic anche qua la stessa cosa e si chiamerà air 2s quindi questa scelta di marketing da parte di j ai di andare a togliere il nome mavic dai suoi droni questo nome che ha fatto il successo poi di dj perché dj è diventato quello che è appunto per il mavic questo nome che non so come mai sia stato tolto da questi droni forse perché si punta a fare questo mavic 3 e chiamare solo mavic appunto il mavic 3 togliendo il nome mavic invece dagli altri droni andandoli proprio a differenziare con il nome anziché renderli tutti mavic differenziali per nome sempre che questo mavic 3 ci sia ma di questo ne parliamo tra poco quindi sta per arrivare lui la cosa strana che arrivi l'aggiornamento di questo drone come poi è successo per il mini a distanza di un anno quindi questi aggiornamenti che poi sono aggiornamenti importanti quindi sono quasi se vogliamo dei nuovi droni se stiamo a guardare perché le caratteristiche di miglioramento sono miglioramenti davvero consistenti infatti per quanto riguarda questo air 2s che sta per arrivare è un drone che non è che è stato aggiornato in piccoli dettagli ma secondo me aggiornamenti se vogliamo importanti perché comunque partiamo dal sensore da un pollice per quanto riguarda la videocamera quindi sicuramente una qualità incredibile che va a migliorare quello che è già una qualità eccezionale della videocamera di questo drone due sensori qua sopra quindi sicuramente migliorato in quanto riguarda la lettura degli ostacoli quindi maggior sicurezza e soprattutto maggiore reattività del drone nel leggere gli ostacoli tipo quando si entra in un bosco in situazioni secondo me di questo tipo avere i sensori qua sopra aiuta sicuramente tantissimo il drone nel decidere quanto può salire per schivare un ostacolo quindi sicuramente una cosa utilissima e poi un'altra cosa che potrebbe interessare o meno ma secondo me è una cosa importante è il ricevitore integrato ad sb questo ricevitore che ci segnala sull'applicazione dj fly se sta per arrivare vicino a noi un aereo un agliante comunque diciamo qualcosa che sta volando nel cielo e questo sicuramente è una cosa importantissima e poi ultima cosa che non è ancora certa ma secondo me lo sarà sicuramente è il fatto che verrà integrato locus inc 3.0 questa versione che è già stata integrata nel dj fpv appunto perché comunque ci dà una connessione e un segnale molto forte e anche molto molto reattivo questo perché ovviamente questo drone che va a velocità assurde e va pilotato con un visore non può avere ritardi nel ritorno di immagine quindi aveva bisogno per forza di un segnale ulteriormente migliorato qua invece abbiamo locus inc 2.0 che già secondo me è fantastico così però sicuramente col fatto che probabilmente questo air 2s potrà utilizzare il visore o gli occhiali dj chiamiamoli come vogliamo questo probabilmente farà sì che all'interno del nuovo drone di casa dj ci sarà appunto questo ocus inc 3.0 quindi capite bene che sono quelle quattro cose che vanno a cambiare ma sono quattro cose importanti perché se pensiamo gli altri diciamo costruttori di droni da un drone all'altro come cambiano poco o quanto tempo deve passare per fare dei miglioramenti qua a distanza di un anno c'è sicuramente un miglioramento incredibile però la domanda che mi sto ponendo è dj aggiornato il mini alla versione 2 dopo un anno sta per far uscire l'aggiornamento del mavic air 2 con l'air 2s a distanza di un anno quindi vuol dire che la filosofia di dj sembra spostare i suoi tempi di sviluppo dai due anni precedenti a un anno quindi praticamente uscite dei droni a raffica però ha un drone che il suo top di gamma a livello se vogliamo consumer cioè il mavic pro 2 che a distanza di due anni non è ancora stato aggiornato quindi la mia domanda è cosa succederà al mavic pro 3 esisterà non esisterà si chiamerà mavic sarà l'unico drone di casa dj a chiamarsi ancora mavic mentre negli altri è stato appunto tolto il nome mavic per lasciare quel nome solo a quel tipo di drone o perché si pensa che quella tipologia di drone non abbia più un grande mercato perché comunque abbiamo un air 2s con dimensioni ridotte ma con caratteristiche incredibili e poi con il mini che comunque ha sicuramente portato via una fetta di mercato a qualsiasi drone perché comunque per le sue caratteristiche di peso ovviamente con tutte le leggi che sono arrivate dal punto di vista del patentino tanti acquistano quel drone e basta quindi lasciano stare le altre tipologie di drone appunto per un discorso peso patentino e utilizzo quindi ragazzi non so ditemi voi la vostra cosa ne pensate appunto del mavic 3 se ci sarà se non ci sarà più perché comunque se dopo due anni non è ancora stato aggiornato mentre i suoi droni di ultima generazione sono già stati riaggiornati qualcosa di strano sicuramente c'è però è tutto da scoprire sicuramente perché dj è veramente un pozzo di idee e di soluzioni e di innovazione incredibile che ci potrebbe lasciare di stucco con l'arrivo di un mavic 3 talmente incredibile che ci è voluto più tempo magari per svilupparlo ma perché è qualcosa di pazzesco e questo è una cosa che sicuramente scopriremo questo air 2s che appunto ha perso il nome mavic è in uscita il 27 di aprile quindi è veramente imminente manca meno di un mese o meglio alla presentazione poi non so se uscirà subito o meno però esattamente a distanza di un anno dall'uscita di lui ragazzi non so più se è positivo o negativo questa uscita raffica di droni è bello per chi ama i droni vedere questa evoluzione che intorno a questo mercato ci sia tanto fermento anche se la bel fermento poi è sempre solo da parte di dji perché tutto il resto è un fermento fermo è solo dji ci sono proprio due estremi secondo me abbiamo dji che fermenta in una maniera incredibile fuori da ogni realtà cioè ha pure aumentato il ritmo nel creare prodotti negli aggiornare negli sviluppare e gli altri costruttori che proprio plafonatissimi vivono su non so che cosa non so ormai si è creata una forbice secondo me ancora più ampia rispetto a quello che c'era prima cioè già prima dji era una cosa sopra tutti adesso ancora di più anche perché con questo aggiornare i prodotti in maniera così veloce sicuramente fa innervosire i clienti perché comunque chi ha acquistato questo drone dice cacchio dopo un anno ce l'ho già vecchio verissimo stessa cosa il mini perché il mini comunque ha fatto un salto di qualità incredibile se vogliamo con il mini 2 perché se pensiamo all'ocusing se pensiamo al tipo di radiocomando se pensiamo alla videocamera cioè sicuramente ha fatto un salto incredibile però cavoli dopo un anno uno si è trovato un drone se vogliamo vecchio sempre validissimo perché comunque il mini 1 drone validissimo soprattutto secondo me nel suo peso rimane tuttora un drone validissimo all'interno del suo peso perché non c'è nient'altro però è anche vero che dopo un anno ti sei trovato un drone che se vogliamo vecchio adesso non so se questa filosofia di marketing pagherà o meno la dji o se invece a un certo punto gli si plafoneranno le vendite perché comunque non è che la gente può cambiare i drone di questo prezzo a raffica però Apple ci insegna che aggiornando e sviluppando telefoni a raffica comunque c'è sempre un mercato quindi non lo so staremo a vedere cosa succederà quindi ragazzi ditemi nei commenti voi cosa ne pensate dell'uscita del Air 2S ma soprattutto se arriverà mai il Mavic 3 o se cambierà nome in qualcos'altro o se non ci sarà più quel tipo di drone in quella categoria di peso cioè ditemi voi secondo voi la vostra opinione cosa ne pensate scrivetemi qua sotto nei commenti quindi ragazzi se questo video in cui vi ho portato le mie considerazioni e le mie opinioni per quanto riguarda questo nuovo drone di casa dji l'Air 2S vi è stato utile e vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità curiosi tante prime stampe 3D lì arrivano tante cose interessanti seguitemi lì se vi va sempre se vi va iscrivete al mio canale 3GOM offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial o una novità ciao ciao